Una novità destinata a far discutere è che segna anche una svolta per quanto riguarda le unioni civili. Il Tribunale di Grosseto ha ordinato al Comune di trascrivere nei registri di Stato civile il matrimonio fra due uomini italiani. Secondo il giudice, nel Codice Civile, infatti, non è individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie al matrimonio. È la prima volta che accade in Italia. Gli sposi sono due noti professionisti che si sono sposati il 6 dicembre 2012 a New York. I due avevano presentato ricorso al Tribunale dopo che l'ufficiale di Stato civile del Comune di Grosseto si era rifiutato di trascrivere nei registri di Stato civile l'atto di matrimonio avvenuto in uno Stato estero. La trascrizione, così come viene spiegato dal giudice, non ha natura costitutiva ma soltanto certificativa di pubblicità di un atto già valido di per sé. La decisione è decisamente storica per Franco Grillini, presidente dei GayNet Italia. Il Comune di Grosseto, che a suo tempo ha scelto di non opporsi al ricorso presentato dalla coppia dopo il rifiuto dei nostri uffici, si adeguerà da subito alle decisioni del Tribunale senza alcuna opposizione. Lo spiega il sindaco di Grosseto Emilio Bonifazi dopo l'ordinanza del Tribunale.